Grandi saldi, Grande Sud. Questo è il claim che richiama al periodo tanto atteso dalla clientela. Primo bilancio più che positivo per i saldi al parco commerciale Grande Sud di Giuliano. A testimoniarlo gli operatori degli store presenti in galleria e i clienti. Come stanno andando questi saldi? Molto bene, molto bene. Quest'anno si lavora molto durante i saldi. Siamo con tutto al 50, quindi stiamo andando veramente bene e speriamo bene per tutta la stagione. I saldi stanno andando benissimo, ci sono sconti fino al 70% e stiamo andando alla grande. Ci chiedono un po' di tutto, anche perché siamo un negozio dove c'è una vasta scelta. Questo è un negozio di abbinamento per bambini, cosa acquistano di più? Cose proprio essenziali, quindi anche intimo, proprio le cose giornaliere. Fino al 50% di sconto su tutta la collezione primavera-estate, a breve anche tutta la collezione mare al 50%. Cosa chiede in particolar modo la clientela? I costumi, perché fa caldo e abbiamo bisogno di andare al mare. Cosa circa in particolar modo in questo periodo di saldi lei? Vabbè, in genere vestitini, cose per il mare. Sto girando, però sembra buono, sì. Sto cercando costumi, gonne, insomma, per la stagione. Ma non solo, al Grande Sud, previsto anche un calendario fitto di eventi per affiancare allo shopping qualche momento di divertimento per grandi e piccoli. Il calendario parte il 28 luglio e terminerà il 31 agosto con tanta musica, gabarè ed animazioni per bambini. Ci sarà Nello Iorio, Gino Fastito, Iartetica, lo show di Divian Granatino. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. 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 Grazie.